Scusami, se quella sera sono stato troppo fragile e non ho avuto proprio forza per resistere e per fregarmene Scusami, scusatemi, ma la voglia di sentirvi era incontrollabile Dirti tutto in quel momento era impossibile, era inutile Scusami, se ho preferito scriverlo che dirtelo Ma non è facile dirti che sei diventata in senso di ogni mio giorno Un momento perché? Perché sei fragile? Scusateci, se io non sto facendo altro che confondermi Ma vorrei fare di tutto per non perdermi io Io voglio vivervi io E mamma mia Ma ti prego di qualcosa oppure stringimi Ma poi la scienza e dei tuoi imprimiti E dei miei limiti Scusami Se ho preferito scriverlo che dirtelo Ma non è facile dirti che Perché sei diventata in senso di ogni mio giorno Un momento perché? Perché sei fragile E come me E come me Sai piangere Ci sono in moda dal vivo su RTL 125 In diretta da Reggio Calabria La capitale della musica E allora abbiamo accennato poco fa con Giorgia La prima pre Lorenzo perché se non avessimo ascoltato Lorenzo Tutti noi probabilmente volevamo uscire con un disco Già più di un anno fa Insomma invece ascoltare le persone E lasciare che ognuno possa fare poi il proprio lavoro È la cosa più importante Poi ovviamente bisogna ringraziare tutte le radio Che hanno collaborato a questo grandissimo successo Va bene, va bene, va bene, va bene Va bene, va bene anche l'altra radio Ma una delle cose più preziose di un cantante come te È il fatto di scrivere i propri testi Di scrivere e in qualche maniera metterci dentro veramente Cosa di autobiografico Però la cosa che mi piace molto è che Scrivi anche per altre persone Quindi cedi e regali dei